Se pensiamo un po' a come era cominciata, diciamo che la strada è stata lunga, però siamo contentissimi, abbiamo comunque lavorato tanto, ci siamo impegnati tanto e comunque siamo tutti orgogliosi e aspettiamo di poter giocare queste due partite, due più importanti partite con molta ansia. Cominciando dal Palazzo San Giacomo, da questo impianto che aspettava da tanto tempo l'arrivo della Nazionale, per molti di voi tra l'altro sarà la prima volta in questo impianto, forse tu a livello Signores ci hai giocato pochissime volte con Pressano, ci sarà una grande atmosfera. Sì, me lo stavo chiedendo anch'io, credo che ci sia venuto una volta ancora con la Signores, quando eravamo in Italia, comunque sì, sappiamo che la prima partita di andata sarà fondamentale, se vogliamo poi riuscire ad andare in Montenegro senza troppe pressioni, comunque sappiamo che ci sarà un grande pubblico che ci aiuterà e stiamo preparando al meglio questa partita. Le due partite contro il Belgio, soprattutto, ma anche il ritorno contro la Turchia, che consapevolezze maggiori vi hanno dato e soprattutto l'impressione che si ha è che ci sia un sempre maggiore feeling tra i membri di questa Nazionale, non mi riferisco alle intese fuori dal campo che si vedono, si vede che c'è un ottimo ambiente, ma anche proprio a livello di gioco, tra voi più giovani e magari giocatori come Marrochi che sono più esperti. Sì, credo che comunque possiamo prendere un po' di insegnamento dal percorso che abbiamo fatto, dalla prima partita in Turchia dove siamo arrivati magari senza essere all'altezza della partita e comunque dopo in gara due dove abbiamo visto che comunque possiamo giocare ad alto livello. Con il Belgio siamo riusciti a vincere fuori casa, che ci teneva molto a cuore visto la precedente partita in Turchia e quindi sappiamo che adesso quello che ci resta a fare è concentrarci partita su partita e dare il meglio a quello che sappiamo fare.